Siamo pronti per mangiare queste lasagne e il marito ci ha voluto mettere sotto il cosino rosso perché diceva che non facevano figura bella con la tovaglia normale. Qui c'è la Giovanna, la mamma. Mamma saluta! Ciao! E qui c'è il marito. Ciao! Ciao! Ciao a tutti! Sì, oggi voglio fare le lasagne con i funghi porcini. Oddio, stanno sgocciolando il che non mi sembra una bella cosa, vuol dire che è bucato il sacchettino. Hanno funghi porcini surgelati perché fresche non si trovano, punte di asparo e surgelate. Qua ho le lasagne fresche della Fior Fiore Coppa che l'ho già provata e sono ottime. E niente, devo fare la besciamella, quindi ho detto perché non fare un video in cui cucino. Quindi proviamo, non so cosa verrà. E vediamo un po', eh? Passo passo guarderò di farvi vedere come faccio le lasagne. Allora, innanzitutto cominciamo a fare il sugo. C'è rimasto un po' d'acqua nella padella perché l'ho appena lavata. Quindi voglio fare delle lasagne tendenzialmente leggere, quindi voglio limitare l'uso del burro. Metto un po' d'olio di oliva extravergine, così. E se sentite casino, veramente, perché sopra stanno sistemando il tetto perché mi pioveva in casa. Allora, dunque, devo trovare un'inquadratura in modo da farvi vedere quello che faccio. Ok, allora, innanzitutto apriamo la confezione di funghi surgelati. Ho preso questi funghi, sono d'antifunghi, porcini congelati dell'ipercoppo, presi all'ipercoppo. Io avrei voluto prendere i funghi freschi, ma non si trovano, ragazzi. Non sono abituata a cucinare mentre mi riprendo. Allora, i porcini, come vedete, non sono bellissimi. Sono soprattutto gambi, che poi, tutto sommato, sono anche saporiti, però non sono sempre la parte più pregiata. Poi, apriamo le punte di asparagi, che sono ben scongelate anche queste. E le buttiamo sempre qua. Sembrano scottate. Io ero convintata che fossero fresche. Asparagi, anche questi della Copp, 100% italiani. Innanzitutto, è una vita che non faccio le lasagne. E poi non sono abituata ad usare le verdure surgelate. A meno che non le abbia surgelate io, già cotte, però... Di solito preferisco prendere, appunto, l'asparagi fresco, ma non è molto stagione. Solo che mi è venuta voglia, questa volta, per il mio compleanno, che è già stato, di pranzare a casa. Perché con la mamma, di solito, facciamo una domenica a casa, una domenica andiamo al ristorante. Perché a lei piace tanto il pesce fritto. Quindi la portiamo lì. Abbiamo una zona tranquilla. Dove stare. Insomma, abbiamo il nostro tavolino. Però questa volta ho detto no, ho voglia di... Quando ero più giovane e la mamma stava bene, di solito per il compleanno mi faceva sempre le lasagne o le crespelle. Ora, lei faceva le lasagne, prima quelle con il ragù, poi quando io ho smesso di mangiare il ragù perché non lo digerivo, ha cominciato che mi faceva le lasagne bianche. Quindi quando me le faceva con i funghi, quando me le faceva con il prosciutto cotto, quando con gli asparagi. E allora ho detto, voglio provare a fare le lasagne io. Ovviamente alla mia maniera, più leggere, perché appunto senza mettere un eccesso di grassi, di burro, eccetera, eccetera. Anche la besciamella proverò a fare una versione un pochino più light. qui adesso noi mettiamo i nostri asparagi a cuocere, giuriamo la ripresa, e li metterò a cuocere qui. Devo salarli, ma devo stare attenta a quanto li salo, infatti a volte uso questo qui, da evitare di mettere troppo sale. Adesso chiudiamo la padella con il sugo e lo lasciamo cuocere. Nel frattempo mi organizzo per fare la besciamella e riuscire anche a riprendermi. Ok, allora proviamo a fare la besciamella. Anche questa la voglio fare con l'olio, quindi metterò di base l'olio extravergine di oliva. Poi ovviamente cercherò di lasciarla abbastanza liquida in modo da far cuocere le lasagne, perché io non le scotto prima, ho preso quelle lì che sono molto sottili, sono molto sottili per cui non andrò a far cuocere prima le lasagne e devo tenere il sugo morbido e la besciamella liquida. Intanto qua sta cuocendo il sugo di funghi e di asparagi, ma l'ho spento perché ho paura che mi bruci, quindi adesso sono impegnata nella besciamella. Vedete, il colore è orrendo perché ovviamente non è fatta con il burro, ma con l'olio. Adesso andiamo ad aggiungere un pochino di sale. Io tendo a salare poco, mia madre invece mangia molto salato, quindi tutte le volte diventa un po' un problema contentarla, però al limite il sale ci se lo rimette da sola, perché comunque non fa bene alla pressione. Ora, io ho la pressione bassa, però sia lei che il marito hanno la pressione alta, quindi bisogna stare attenti con il sale. Il latte sto usando questo qui, il Vivi Verde Bio, che è lo stesso latte che uso anche per dare la pappa al kefir e anche i gattini, quelli che bevono il latte, bevono questo. Ops, specchiato nella ring. C'è anche i gattini che mi bevono il latte, bevono questo qua. Poi oggi sto preparando tutto questo, poi la mia idea di solito quando faccio le lasagne in questo modo, io le preparo il giorno prima, il pomeriggio prima, e poi le metto gli strati con questi sughi abbastanza liquidi, e poi le tengo in frigorifero tutta la notte e le cuocio al mattino dopo, in modo da che si sono ammorbidite, si sono impolpate bene bene del sapore, e poi così mi fanno tutta la crosticina, ma devono rimanere morbide dentro. Queste sono le lasagne come piacciono a me. E vediamo un po', quindi oggi faccio la registrazione di questo, poi domani magari vi aggiornerò, aggiornerò il video, o vi metterò le foto poi delle lasagne finite, insomma vediamo un po', eh. Ok, adesso, mentre lì il sugo sta continuando a cuocere sul fuoco un pochino più basso, e ho aggiunto un pochino d'acqua, perché deve rimanere liquido, adesso andiamo a cuocere la nostra besciamella, nella quale dovrebbero, avrei dovuto mettere un po' di, come si chiama, di noce moscata, ma non ce l'ho. Quindi, ACP che si sta già assodando, cioè veramente, fare la besciamella, cioè si sta già attaccando, fare la besciamella in queste pentole di vetro, ragazzi, è un delirio, è veramente un delirio. Mi volevo mettere un grembiolino per cucinare in modo, cioè per avere un aspetto un po' da brava donnina di casa, ma ce l'avete voi il grembiule? No, cioè ce l'ho, ma a casa di Luigi, che di fatto è la casa dove è più probabile che cucini. Nel senso, cucino anche qui, però magari è più facile stare dietro ai fornelli in inverno. Ecco qua che si sta assodando, e io spengo il gas, perché questa pentola qui mantiene il calore per molto tempo, e quindi continuo a girare a fuoco spento per evitare appunto che si attacchi. vedete, sta diventando una cremina, però vi ripeto, essendo che le lasagne mi piacciono morbide e che appunto non le cuocio prima, il tutto deve essere abbastanza liquido in modo che poi in forno non vengano rinsecchite, perché mi piacciono proprio con la crosticina sopra, ma morbide dentro, quindi sia la besciamella che il resto devono essere super 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 morbide e liquidine. Andiamo ad ungere di nuovo la teglia, sempre con il nostro olio extravergine di oliva. e vado a mettere, vedete sono molto 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 sottili eh queste sfoglie, vado a mettere la prima di vari strati adesso eh, strato number one, quindi un pochino di besciamella, ecco ho già colato, stavo in pensiero, ecco l'ho già fatto, un po' di, sta già andando ovunque, eh, il problema di questi, di quando si cucina questa roba è che poi la cucina si comincia veramente in una maniera indegna. Allora io uso lo stesso mestolo eh, tanto poi è tutto insieme, prendo il sugo molto molto liquido, allora, si prendo un altro po' di sughetto, si va a spandere un po' qua e là, ci sono delle parti in cui ovviamente rimane a pezzettoni, quindi il sapore è dato dall'acquina, quindi del sugo eh. Quante ce ne sono ancora? Le volevo fare tutte ma non mi basta la besciamella per farle tutte, mi sa, quindi allora questa, a questo passaggio qua io metto solo il sudetto, perché voglio che mi rimanga la besciamella sopra, sull'ultimo strato eh. Potevo fare una cosa io fatta come si deve. Quando una cosa non la si fa mai ragazzi, è un problema anche calcolare le dosi, perché manca proprio quella manualità tipica dell'abitudine a fare certe cose. Allora qui mettiamo un pochino più di formaggio. L'erba cipollina. Sì veramente un po' si fa a carestia eh qua con questo sugo, si fa veramente a carestia. un fungo qua, uno là, no veramente, vabbè. Lo so che una persona normale direbbe ok, ma io poi il video non lo faccio a questo punto. No, voi vedrete il video, perché tanto ormai lo sapete, se mi volete bene e mi prendete così come sono, con tutti i miei disastri. ho le, questa, questa, adesso ci arrovesciamo tutta la besciamella rimanente. e poi qualcosa mi studierò eh, mi inventerò. Dice se non mettevi uno strato in più di pasta, la rimediavi meglio. sì, ma poi io con quel pezzettino di pasta cosa ci facevo? Non ci facevo niente. Quindi qui o rifaccio della besciamella o allungo con un pochino di latte e basta. potrebbe essere un'opzione, potrebbe essere un'opzione, che dite? Perché qui viene proprio rinsecchita eh. Andiamo a sciacquare la pentola eh. Facciamo così. con un po' di latte. Così era. Ecco. Adesso mi sono veramente tirata il latte sulla maglia. tiriamo giù gli angoletti in modo che il liquido li bagni anche questi. Ovviamente sopra rimane tutta bianca e il sugo interno è a sorpresa. Ecco qua queste lasagne un po' disgraziate. A questo punto ragazzi io le metto in frigo, le faccio riposare tutta la notte e poi domani le cuocio. Quindi mi devo ricordare domani di continuare a registrare il tutto. Ciao. Siccome l'imprevisto è sempre in agguato e il forno fa contatto e salta ho dovuto travasare le lasagne in una pirofila tonda. perché nel fornetto che potrò usare ci vanno solo le pirofile tonde. Qua. Quattordici minuti con hot blast out lasagne e poi metterò il forno classico. come volevo fare in origine con il forno classico. Beh, non era questa l'idea di cuocerle. Che succede? Che tendono a bruciare sopra nel fornetto piccolo e sotto rimangono un po' più mollicce e crude. D'altra parte ragazzi se quell'altro forno fa contatto e salta la corrente è che dovevo fare. Siamo pronti per mangiare queste lasagne e il marito ci ha voluto mettere sotto il cosino rosso perché diceva che non facevano figura bella con la tovaglia normale. Qui c'è la Giovanna, la mamma. Mamma saluta. Ciao. E qui c'è il marito. Ciao. Qui ci sono io e questo video è finito. Ciao. Ciao.